Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con la TMB News, parliamo del Milan in apertura, i rossoneri hanno battuto il Bodo Glimt e sono così approdati alla playoff di Europa League dove affronteranno il Rio Ave, un successo più sofferto del previsto, quello della squadra di Pioli che ha comunque allungato la sua striscia positiva, ha acquisito ulteriore fiducia nei propri mezzi e adesso però c'è da capire, mi rivolgo a Raimondo De Magistris, quanto potrà pesare nelle prossime partite l'assenza di Ibrahimovic, il vero e proprio leader di questo Milan. Il gol di Colombo, l'ottima prestazione di Akan Cialanoglu che si conferma senza Zlatan Ibrahimovic il leader di questo Milan. Ciao Lorenzo, buonasera, ben trovato per commentare il passaggio del turno del Milan alla fase spareggi di Europa League dopo il successo per 3-2 contro il Bodo Glimt una gara più sofferta del previsto perché il Bodo Glimt è squadra scandinava che gioca molto bene perché il Milan aveva assenze importanti, Duarte ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic che è risultato ieri positivo al Covid-19 e inevitabilmente è stato escluso dall'11 titolare ma al suo posto il giovanissimo Colombo che si è confermato all'altezza del compito addirittura a fine gara ha dichiarato di voler restare a Milan convinto di potersi giocare le proprie carte ha ricevuto anche elogi da Stefano Pioli e dai suoi compagni di squadra un Milan offensivamente molto molto positivo Akan Cialanoglu su tutti il migliore in campo ma che anche ieri ha forse confermato quelle che sono i timori di Stefano Pioli che da settimane chiede a un centrale di difesa anche ieri si sono viste delle lacune in questa squadra serve almeno un centrale titolare da affiancare durante la stagione soprattutto a Musacchio, Romagnoli e Chier servirebbe forse anche un terzino ma insomma credo Pioli si accontenterebbe almeno di un centrale Milenkovic, Pezzella, i primi obiettivi ma anche Nastasic e Ayer del Celtic c'è poco più di una settimana a disposizione per accontentare l'allenatore del Milan che intanto ieri ha superato il turno di Europa League nonostante l'assenza di Zlatan Ibrahimovic Con la vittoria di ieri sono dunque 16 risultati utili consecutivi del Milan e Pioli ha raggiunto Ancelotti nella speciale classifica di imbattibilità per quello che riguarda il Milan naturalmente Su Pioli sentiamo adesso le considerazioni di Alessandro Mannini grande amico dello stesso Pioli è stato suo compagno di squadra alla Fiorentina negli anni 90 Sono veramente felice per lui perché è un carissimo amico, una persona veramente eccezionale un professionista che merita tutti i successi che sta raccogliendo negli ultimi anni l'anno scorso ha preso il Milan in una situazione veramente disperata drammatica, è riuscito a rimetterlo in carreggiata a fare un finale di stagione veramente travolgente ha iniziato bene e quindi ripeto sono soltanto contento perché è un ragazzo che merita tutto il bene possibile Qual è il segreto di Pioli? Qual è stato nella stagione scorsa e qual è adesso? Credo che lui si faccia voler bene da tutto l'ambiente senza alzare mai la voce riesce a conquistare la fiducia dei giocatori la fiducia della società con i suoi modi garbati, con i suoi modi pacati e i risultati che ottiene sono sempre dei risultati molto positivi qualcuno aveva detto che non sarebbe stato un allenatore da grandi squadre però negli ultimi due anni ha fatto al Milan l'anno scorso l'anno prima all'Inter mi sembra che siano delle ottime squadre se è stato confermato in una società importante come il Milan vuol dire che aveva lavorato molto bene Ecco adesso il Milan senza Ibrahimović per un periodo quanto potrà risentirne considerato questo giocatore comunque nonostante l'età è sempre decisivo? Ne risentirà molto perché come hai detto Ibrahimović è un trascinatore, un giocatore fondamentale per questo Milan nonostante l'età sta ancora facendo ottimi campionati e quindi penso che sarà una perdita grave però purtroppo in questo momento dobbiamo convivere con qualcosa di più grosso di noi a chi tocca tocca E in questo momento il Milan lo vedi competitivo per quale posizione in campionato? Subito ridosso delle prime sicuramente le prime due sono ancora irraggiungibili secondo me Inter e Juve sono due squadre che faranno ancora saranno protagoniste subito dopo vedo il Napoli e poi ci metterei anche il Milan Tuo parere, la sensazione Donnarumma potrà essere portiere dei Rossoneri a lungo oppure dipende anche proprio dalle ambizioni del club? Ma dipende più che dall'ambizione del club, dipende da Raiola purtroppo siamo sempre lì è lui che detta legge, è lui che ha sempre il coltello da parte del manico un portiere importante come Donnarumma troverebbe una posizione in qualunque squadra europea e delle più importanti e quindi il Milan se vuole trattenere un portiere del genere deve avere una squadra all'altezza perché altrimenti Raiola lo porta via Bene, parliamo ora di mercato e in particolare dell'affare Chiesa con la Juventus che sembra pronta e decisa a sferrare l'assalto finale per arrivare all'esterno della Fiorentina per tutti i particolari sentiamo Marco Conterio Ciao Lorenzo, parliamo di Juventus parliamo anche di Fiorentina perché parliamo di Federico Chiesa un giocatore che piace da tempo il segreto di Pulcinello è la formazione bianconera nella giornata di ieri comunque nell'ultima settimana sono andati in scena dei contatti forti, concreti tra gli intermediari del giocatore i dirigenti bianconeri che stanno lavorando tra le alternative con forza anche sul giocatore della Fiorentina ne ha parlato Giuseppe Iachini ha detto l'allenatore della Fiorentina ovviamente ha detto il giocatore di essere con noi non ho sentore di altre cose vuole bene la Fiorentina ma è un giocatore che di fatto ha da tempo aperto la Juventus l'ha fatto già anche in passato insomma questa opportunità la trattativa c'è non è avviata non è concreta ovvero nelle fasi conclusive però Chiesa è un giocatore che alla Juventus piace molto prestito con obbligo di riscatto vuol dire un pagherò ma pagherò sicuramente insomma sono formule che adesso con i bilanci moderni con la crisi dovuta anche al Covid sono molto usate Chiesa Juventus trattativa che è in corso ieri incontro tra l'intermediario Falira Madani e i bianconeri oggi nuovi contatti quindi vediamo già dopo la partita contro l'Inter ci saranno ulteriori aggiornamenti non è il solo però Chiesa per la Juventus perché io direi di andare da Ivan Cardia perché c'è anche un altro nome che interessa è bianconeri e arriva da Roma con la Lazio Ivan grazie Marco l'alternativa è Oaxin Correa attaccante argentino della Lazio classe 94 il Tuku piace alla Juventus è riduce da un'ottima stagione con la maglia bianco celeste 10 gol complessivi di cui 9 in Serie A si è ritagliato col passare del tempo un ruolo da vero e proprio quarto tenore nell'orchestra di Simone Inzaghi che ha sfiorato il sogno scudetto ora la Juventus lo ha puntato è uno dei nomi ovviamente su cui la società bianconera sta ragionando sta valutando perché Paratici vuole completare l'attacco a disposizione di Andrea Pirlo il Correa per qualità per duttilità per capacità per la sua capacità realizzativa anche andrebbe a completare appunto perfettamente il reparto offensivo del maestro con la Lazio non è semplice trattare lo Tito non se ne vuole privare però ha anche la necessità comunque di capitalizzare in un mercato nel quale finora la Lazio ha lavorato soprattutto in entrata c'è da lavorare sulla formula perché comunque sappiamo quanto sia particolare questa sessione di mercato la Juventus si è iniziata a muovere continuerà a trattare il giocatore la Lazio ha una clausola risolutiva di 70 milioni di euro ma difficilmente si arriverà a quelle cifre se dovesse arrivare un'offerta da 40 milioni di euro l'affare potrebbe andare in porto la Juventus ci sta pensando seriamente ed è pronta a piombare su Correa restiamo sul mercato perché Mario Balotelli sembra sempre più vicino alla Genoa l'ex attaccante della Nazionale potrebbe dunque ripartire dalla squadra di Maran dopo la negativa esperienza al Brescia Lorenzo Di Benedetto buonasera si parla di un accordo annuale più opzione per il secondo e sarebbe l'ennesima occasione di rilancio per Balotelli si ciao Lorenzo buonasera a tutti Mario Balotelli forse ha trovato una nuova squadra ed è pronto per quella che potrebbe essere la sua nuova avventura ancora in Serie A questa volta però con la maglia del Genoa ultima spiaggia quante volte ci siamo fatti questa domanda di fronte a ciò che Mario Balotelli ha fatto nella sua carriera un giocatore che soprattutto quando era giovane ha dimostrato sul campo di poter essere un giocatore in grado di fare la differenza ma poi i suoi comportamenti fuori dal campo le sue incomprensioni con i vari allenatori lo hanno reso più un rimpianto che un grande giocatore adesso però Mario Balotelli è pronto ancora una volta a rimettersi in gioco non è andata nel modo giusto la sua ultima avventura al Brescia laddove si parlava di un Mario Balotelli tornato a casa in quella che poteva essere la squadra che lo avrebbe potuto rilanciare non è stato così adesso invece ci punta il Genoa accordo praticamente trovato tra il suo agente Mino Raiola e Enrico Preziosi presidente del Genoa per un contratto di un anno con opzione per il secondo manca pochissimo la formata bianca è dietro l'angolo per un Mario Balotelli che finalmente forse riuscirà ad essere davvero decisivo questo è l'augurio che gli facciamo è l'augurio che ci facciamo tutti anche pensando al prossimo europeo perché alla fine nel 2012 Balotelli ha fatto gioire tutto il popolo italiano soprattutto con la doppietta nella semifinale contro la Germania adesso Mario Balotelli guarda l'europeo ma per prima cosa deve guardare la maglia del Genoa rimettersi in gioco e dimostrare una volta per tutti di essere quel giocatore in grado di fare la differenza domani è il giorno del debutto in campionato per l'Inter di Conte che si è rinforzata molto durante il mercato ma naturalmente il tecnico Nerazzurro aspetta anche altri acquisti subito un bel banco di prova per l'Inter contro la Fiorentina per le ultime andiamo da Alessandro Rimi buonasera Lorenzo ben trovato è stata la giornata importante questa in casa Inter con la presentazione ufficiale prestagione da parte dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte accanto a lui chiaramente il CEO dell'Inter l'amministratore delegato Beppe Marotta insomma si è parlato un po' di tutto di mercato dell'obiettivo dell'Inter chiaramente confermare dalle parole dell'allenatore Nerazzurro la credibilità di questa squadra e sulla scia di quanto buono fatto l'anno scorso parola al miele anche per un suo ex calciatore che oggi si trova sorprendentemente alla guida della Juventus campionità di Andrea Pirlo detto nutro grande effetto per Andrea evidentemente anche soltanto non soltanto come allenatore ma anche come persona al di là insomma del Pirlo professionista insomma si è parlato chiaramente anche dei giocatori di chi porta un tasso esperienziale importante come Vidal come Kolarov Hakimi ha detto Conte ha 21 anni una grande carriera però ha bisogno chiaramente di integrarsi nei nostri schemi vedremo un Inter che domani debutterà allo stadio San Siro contro la Fiorentina per questa prima gara del nuovo campionato 20-21 una formazione che probabilmente vedrà il coinvolgimento di Christian Eriksen sulla tre quarti dietro Lautaro dietro Lukaku molto probabilmente vedremo Achimi comunque titolare giocheremo tre gare Conte ravvicinate perciò dovrò chiaramente provare a far ruotare i miei giocatori c'è grande attesa e grande voglia di partire forte domani contro la Viola Andiamo anche in casa della Fiorentina adesso per conoscere l'atmosfera che si respira in vista di questa partita molto importante per Viola dopo il bel debutto con il Torino sentiamo Andrea Giannatasio vice direttore di FirenzeViola.it Eh sì Lorenzo perché sarà una Fiorentina assolutamente rinfrancata quella che scenderà in campo domani sera a San Siro contro l'Inter nella sua prima trasferta dell'anno rinfrancata ovviamente dal successo di sabato scorso per 1-0 contro il Torino in cui la Viola di Beppe Iacchini ha dimostrato sensibili passi in avanti sul piano del gioco rispetto alla coda dello scorso campionato sarà una partita interessante soprattutto da un punto di vista tecnico perché segnerà l'esordio in maglia viola di Sofiam Amrabat giocatore che era assente col Torino perché doveva ancora scontare un turno di squalifica rimediato quando ancora era dell'Ellas Verona dovrebbe prendere Amrabat il posto di Jack Buonaventura nel classico 3-5-2 di Iacchini dove sarà ancora una volta assente Germán Pezzella che dovrebbe partire dalla panchina al suo posto Federico Ceccherini che ha ben figurato contro il Torino sabato per quanto riguarda il resto della formazione davanti nessun dubbio Quame e Frank Ribery con Chiesa quinto di destra su Chiesa grande punto interrogativo in vista del rush finale di mercato è chiaro che il nome del classe 97 è ancora molto chiacchierato soprattutto per quanto riguarda l'accostamento alla Juventus è evidente che se dovesse partire all'improvviso il numero 25 cambierebbero anche tante delle logiche di mercato Viola a fronte di un ingresso di tanti soldi per la Fiorentina il club dovrebbe procedere all'acquisto o di un altro esterno o quantomeno di una punta rivoluzionando gran parte della rosa e delle idee tattiche di Beppe Iacchini mancano pochi giorni e presto sapremo quello che sarà il destino di Federico Chiesa sulla Fiorentina sentiamo ancora Alessandro Mannini ex portiere Viola che torna sulle parole del patron commisso e la sua volontà di costruire un nuovo stadio sì io penso che a Firenze sarebbe bene che non facessero girare troppo le scatole al nuovo presidente perché avesse la possibilità di costruire questo stadio l'amministrazione lo supportasse un pochettino di più sarebbe sicuramente molto molto utile perché è un presidente che ha delle grandi ambizioni ha delle grandi potenzialità e quindi per ogni tanto vedo che gli mettono un bastone tra le ruote lo vedo un po' ogni tanto agitato ma sarebbe bene che se lo tenessero ben stretto ecco che cosa pensi dell'idea di commisso di buttare giù il Franchi per ricostruire un altro stadio nella stessa zona del Franchi ovviamente beh che sicuramente sarebbe un'ottima idea perché vedo che ci sono degli stadi nel centro delle città che sono ancora attuali nonostante tutti dicano che vogliono costruire fuori in periferia però io penso che il Franchi ormai sia faccia parte della storia di questa società e ho giocato dentro è un'atmosfera particolare e anche se venisse fatto nuovo moderno più moderno penso che la storia lì dentro si respirerebbe ancora quindi ecco buttarlo giù nonostante magari che sia un monumento tra virgolette è giusto così a tua parere? secondo me sì secondo me io lo lascerei lì dov'è credo che non ho seguito molto la tifoseria se è d'accordo o meno su questo non mi posso esprimere però ho seguito per esempio le vicissitudini di uno stadio qui vicino a Pisa che mi è caro perché ho giocato lì per tanti anni e i tifosi non vogliono andarsene lì vogliono conservare ancora quel ricordo quel sapore quel fascino particolare che ha lo stadio nel cuore della città sulla squadra in generale invece che cosa pensi? la squadra sicuramente è sempre alle prese con non si è rinforzata moltissimo a mio avviso e quindi sarà ancora alle prese con una posizione classifica che non accontenterà i tifosi i tifosi a Firenze vorrebbero sicuramente poter rivivere i fasti dell'era battistuta e è chiaro che penso che un presidente con queste potenzialità si è lasciato lavorare in pace e può riportare molto in alto la Fiorentina parliamo anche del Cagliari che ha messo a segno un bel colpo con l'acquisto di Godin e domani la formazione di Di Francesco affronterà la Lazio in collegamento con noi c'è Francesco Aresu la parola giusta da pronunciare in casa Cagliari è finalmente finalmente è arrivato Diego Godin difensore uruguaiano che ieri sera ha varcato le porte dell'aeroporto di Elmas scali privati finalmente il numero due è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari il grande acquisto di esperienza per la difesa chiesto e ottenuto da Eusebio Di Francesco una trattativa lunghissima che anche ieri ha vissuto l'ultimo ritardo con il volo proveniente dall'Inate che è decollato con circa un'ora di ritardo rispetto all'arrivo previsto inizialmente di fatto l'arrivo di Godin dà a Di Francesco quel difensore centrale su cui puoi costruire tutto il reparto difensivo è in grado di dare esperienza e leadership anche al resto della squadra non è un caso che durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro la Lazio lo stesso Di Francesco abbia definito un colpo da 10 l'arrivo di Godin che è convocato per la sfida della Sardegna Arena ma ancora non si sa se sarà titolare perché ha pochi allenamenti con la palla alle spalle per il resto si va verso la conferma del 4-3-3 con Cragno tra i pali ballottaggio Zappa Faragò per il ruolo di terzino destro mentre Valuchievic è sicuro del posto al centro della difesa balla il nome di Godin insieme a Pisacane per l'altro posto da centrale trio di centrocampo composto da Nandez Marin e Rog davanti il tridente delle meraviglie ovvero Gio Pedro a sinistra Riccardo Sottila a destra e Giovanni Simeone al centro Siamo così arrivati alla conclusione di questa ricca puntata del TMV News ci ritroveremo domani grazie per averci seguito buon proseguimento di serata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!